Come arrivare al rifugio della Balma di Coazze. Seguire le indicazioni per forno di Coazze, e procedere oltre il santuario della Madonna di Lourdes, superare il campeggio, i Pianas, seguendo sempre la strada che porta alle sciovie di Pianney Retto. Lasciata l'auto in corrispondenza del tornante prima della sbarra che interrompe la strada. Ci si incammina nel bosco su sentiero tracciato che si inoltra nel vallone della Balma. Proseguendo sempre su sentiero si attraversa il ponticello sul torrente Balma, si passa accanto alla postazione, Real Bulai, e poi salendo si guadagna una crestina che si percorre sino a giungere nell'ampio vallone. Si prosegue nel vallone lasciando gli sfasciumi della rocca di Banti sulla destra, si incontra una fontana a beveratoio. Si giunge infine al rifugio Balma Altezza 1986, circa due ore dall'auto, gestito in estate, e dotato di un ottimo locale invernale riscaldato. Poco più in alto a 20 minuti di camminata si trova il lago Sottano Altezza 2098. Poco più in alto a 20 minuti di camminata si trova il lago Sottano Altezza 2098.